Abbiamo il nostro masso, non vi stiamo per bene per far vedere che non ci sono trucchi, rimettiamo le carte assieme Prendi una carta Facciamo così, apriamo il masso, vado a vedere bene Vado a fare tre mazzetti, uno, due, cercando di farli più o meno uguali Vado a prendere l'ultimo mazzo e lo metto sopra agli altri Mischio la francese Prendo l'elastico, faccio un occhio, tre mazzetti E vado a mettere l'elastico del mazzo di carte Divido il mazzo in due Così, basta girare e buttarlo sotto Vedi il dito sopra Uno, due, tre, bolla E questa? Ma come hai fatto? Brava! Dunque Obama ci pensi bene prima di consegnare a lui